Oh ed eccoci qua, all'inizio del bordin, verso il Col Basset, diciamo che lì. C'è questo ruscello qua da superare. E poi si sale. Siamo qui a metà luglio ed è già tutto bello sciolto. Perfetto, poi c'è anche passata la marathon. Della mountain bike, quindi è perfetto. E quindi si inizia. Tutto bene o male in piano. Guardare la strada che, se finiamo giù, è abbastanza ripido. Qui c'è un mini addosso qua, sale e scende e poi si riprende. Panorama stupendo. Panorama stupendo. Di qua volendosi va su al Praetere, con la strada bianca. E qui c'è addirittura gente qui, veroni. Come vi dicevo qua, si può sempre tranquillamente bere e di fronte una cenè. Qui c'è un altro bel posto stupendo, dove c'è questa pietrale qua un po' esposta. E c'è una vista stupenda qua sulla valle argentera, qua i monti della luna, si vede anche lo shaverton. Stupendo. Poi le piogge, negli scorsi giorni, hanno fatto sì che tutto bello ha fiorito, tutto bello verde. Qua volendo c'è un'altra fontana per bere. E poi c'è questo tratto stupendo. Poi c'è questo tratto. E' così arrivati. Alla fine. Sentiero Bordin. E siamo arrivati. Siamo arrivati. Alla fine. Alla prossima video. Ciao. Ciao. Ciao.